Montale nasce a Genova nel 1896, combatterà la Prima Guerra Mondiale, firmerà il Manifesto degli Intellectuali Antifascisti, vincerà le Nobel nel 1975 e morirà nel 1981. Le raccolte di poesie sono Ossi di seppia. Il titolo allude all'aridità, intesa come condizione esistenziale. Il poeta vuole infatti esprimere il male di vivere, una condizione di angoscia e dolore. Il linguaggio inoltre è essenziale. Con la poetica degli oggetti, le emozioni verranno espresse tramite oggetti concreti. Nelle occasioni, la poetica degli oggetti viene portata alle estreme conseguenze e inoltre viene presentata l'immagine della donna Angelo, una donna custode della cultura. Nella bufera e altro veniva invece presentata la delusione del poeta per il dopoguerra italiano. Infine abbiamo Satura, le poesie composte per la moglie defunta che chiamava affettuosamente Mosca a causa della sua miopia.